Il Governo regionale formerà un Comitato Etico Territoriale che si occuperà della valutazione delle sperimentazioni cliniche riguardanti dispositivi medici e medicinali e in maniera congiunta con le autorità competenti della verifica dei protocolli di studio in attuazione del decreto del Ministero della Salute che ha individuato 40 comitati in tutta Italia e specificato i criteri relativi alla composizione e al funzionamento di questi organismi. I venti componenti del Comitato Etico Territoriale della Sicilia dovranno essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici come richiesto da un decreto dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo. Ritengo importante che la Sicilia possa dotarsi di un organismo prezioso per il corretto funzionamento delle attività scientifiche e sanitarie, ha sottolineato l'assessore, attingendo alle migliori professionalità presenti sul territorio, con documentata competenza ed esperienza in questo delicato ambito. In particolare il Comitato sarà formato da professionalità in diversi ambiti, fra i quali 5 esperti in materia di sperimentazione clinica, un medico di medicina generale territoriale, un pediatra, un farmacista ospedaliero, un esperto in materia giuridica, un medico legale, un ingegnere clinico e un fisico medico. La partecipazione dei professionisti ai lavori del Comitato sarà a titolo gratuito.